Perché è candidato a Vittorio Feltri? A dir poco per la stima che abbiamo, lo conosciamo, un uomo che si è fatto valere sul campo, le sue battaglie sono sempre state le nostre battaglie. Abbiamo scelto una persona libera, lontana dagli schemi dei partiti, da presentare non soltanto al Parlamento ma a tutti i cittadini. Una persona che non fosse usurata negli anni dalla presenza nei vari palazzi, ma una persona che conoscesse bene la politica e gli italiani. Ha sempre sostenuto anche delle nostre battaglie, è un uomo che è contro l'immigrazione, è un uomo che è contro le banche. E avremo bisogno di un secondo picconatore, che più che picconatore è un presidente indipendente. Noi presentiamo sicuramente un candidato di rottura, una rottura che va in direzione completamente opposta a quella che potenzialmente può essere il patto del Nazareno. Perché è un grande giornalista, tra l'altro bergamasco, perché è un uomo libero e soprattutto popolare e amato dalla gente. Ma soprattutto perché è una persona seria ed è uno spirito libero. Quello che serve oggi all'Italia è una personalità di questo tipo. Feltri perché è l'uomo che ha sempre sostenuto le battaglie vicine alla Lega. Perché è una persona che parla in modo schietto, chiaro, che ha il coraggio di dire quello che pensa e che sicuramente anche in politica porterebbe un vento nuovo che tornerebbe utile a tutto il paese. Perché di no? Perché no? Perché deve essere sempre la politica a scegliere, deve esserci sempre il solito amato, il solito prodi, piuttosto che il solito mattarella. Ancora una volta il governo Renzi ha perso un'occasione. In questo momento strategico per il paese, la votazione del capo dello Stato, se fosse arrivato un nome, un nome terzo, quello che noi avevamo chiesto, sarebbe stato auspicabile. Perché noi non tolleriamo questi giochetti che tutti noi stiamo vedendo, fra Renzi, Berlusconi, che non si capisce nulla senza il rispetto dei cittadini. Ha feso molte delle nostre battaglie, ha sempre avuto simpatia per il nostro modo di far politica, vicino al popolo, vicino alla gente, vicino ai problemi concreti e non alle ideologie o ai desiderati. Penso sia una persona di equilibrio, una persona che conosce bene le problematiche dell'Italia, vicino alle nostre idee di federalismo. È una persona anche fuori dalla politica, la gente vuole persone che non siano nell'alveo politico. Dei nostri territori, è una persona che ha il coraggio di dire quello che pensa e che è capace di andare contro il sistema. Per difendere le identità, per difendere le piccole e medie imprese, per contrastare l'euro e lo strapotere delle banche. Un nome anche rivoluzionario per quello che riguarda il Presidente della Repubblica e speriamo che anche gli alleati che abbiamo seguano l'intenzione di voto che ha dato Salvini.